San Gennaro Gennaro è il santo più invocato della Campania ed è diventato popolare soprattutto grazie al miracolo della liquefazione del sangue. Nacque a Napoli nella seconda metà del III secolo. Eletto vescovo di Benevento, si fece amare da cristiani e pagani. Durante la persecuzione di Diocleziano fu arrestato e trasferito nel carcere di Pozzuoli dove fu decapitato il 19 settembre 305. Durante l'esecuzione Donna Eusebia raccolse in due ampolle il sangue del martire e lo costudì con molta venerazione. Nel 431 le reliquie del santo furono traslate da Pozzuoli a Napoli ed Eusebia regalò al vescovo della città le due ampolle. Patrono della città di Napoli e della Campania è invocato contro le eruzioni vulcaniche del Vesuvio. Grazie a tutti.